vedi qui è molto più luminoso di quello che c'è sul modello ci arriverò piano piano ci siamo adesso posso sporcare un po e comincia a cercare di vedere che cosa succede alla tasse io metto qua un po di questo colore poco terra di siena bruciata quasi quasi già me lo mischio perché qui è un terreno intermedio qui c'è luce mentre qui vedi che vado vado a cercare di seguire le zone dove vedo che nel modello ci sono questi colori come al solito la sfumatura va in questa direzione il pennello va di traverso lo vedi perché se io faccio questo lavoro sposto sposto il colore nel suo insieme grazie